I nuovi modelli di business sono ormai un tema importante da gestire e in cui è veramente importante avere una condivisione di termini e una condivisione di azioni. Gli SDGs possono essere veramente un enorme supporto alla definizione e alla codifica di questi nuovi modelli di business e quindi è veramente importante leggerli non solo nell'ambito dei 17 target ma anche nell'ambito dei sotto 169 target. In questo modo state e imprese potranno contribuire realmente allo sviluppo sostenibile nel 2030.